Ciao ragazze, questo è un trucco per chi porta gli occhiali, anche se in realtà è un make up che io amo e che quindi tutte potete portare Inizio il mio video per Vogue Eyewear, questi sono gli occhiali che indosso oggi, hanno queste splendide colorazioni che stanno andando moltissimo In questa primavera, estate, anche questa fantasia a striscioline, si è vista molto sulle passerelle, se avete visto Quindi inizio il mio trucco, non vi ho fatto vedere ma è un correttore in crema e lo applico con il pennello duo fibre per un effetto più naturale Lo sfumo per bene su tutte le imperfezioni, sulla zona del contorno occhi, ai lati del naso e poi passo al fondotinta Lo applico come al solito con la mia spugnetta in umidita, sempre in umidita mi raccomando perché l'effetto più naturale Poi non va a risucchiare troppo prodotto, non va ad assorbire troppo prodotto, lo sfumo per bene giù verso il collo E poi lo fisso con la mia cipria, questa è una cipria, io amo le cipie traslucide, lo sapete, uso quasi sempre cipie traslucide Ma in estate ancora di più perché danno un effetto completamente antilucido, quindi sono perfette E poi primer, questo è il primer occhi, vado a picchiettarlo su tutta la palpebra E poi passo agli ombretti, quello che uso è un ombretto molto chiaro e un illuminante Perché con un trucco per chi porta gli occhiali, gli ombretti scuri possono essere un pochino troppo esagerati Possono appesantire lo sguardo, quindi non userò colori troppo scuri E vado successivamente con un marroncino chiaro, vado a segnare invece la piega per dare profondità allo sguardo E porto il marroncino fino all'inizio dell'occhio e poi anche verso l'esterno, sull'angolo esterno Poi sempre della stessa palette prelevo questo che è un bronzo glitterato E molto shimmer, è molto estivo, questo colorio secondo me vado ad applicarlo su tutta la palpebra mobile E vado a sfumarlo poi per bene con il marrone della piega Sempre dalla palette vado a prendere un marrone un pochino più scuro, anche questo è molto glitterato E lo applico solo sull'esterno della palpebra mobile Anche questo vado a sfumarlo per bene con il resto dei colori, in modo che non ci siano stacchi troppo videnti E poi lo stesso colore, lo stesso marroncino lo porto anche giù Sulle ciglia inferiori non vado a creare una linea troppo spessa, mi raccomando Perché con le lenti degli occhiali poi può sembrare più grande, può creare un'ombra sotto all'occhio che non ci piace Quindi poi vado a sfumare per bene il tutto con un pennello pulito e morbido Ora non mi resta che passare all'eyeliner E' un bel trucchetto usare un eyeliner che sta bene con il colore della montatura degli occhiali Quindi io ne uso uno viola che tra l'altro, come ben sapete, secondo la teoria dei colori, fa risaltare moltissimo anche gli occhi verdi Invece un'alternativa, se avete gli occhi scuri, potrebbe essere un eyeliner verde che mi piace moltissimo con gli occhi nocciola E poi, eh sì, appunto, vado a stendere il mio cagial su tutta la linea, insomma, delle ciglia Rendendolo un pochino più spesso, come al solito, verso la fine sulla codina E poi il colore dall'esterno, proprio continuo la linea e lo porto anche sulle ciglia inferiori Anche qui mi raccomando una linea molto molto sottile Cerco di andare quanto più vicina alle ciglia possibile per non coprire il marrone E poi con il pennellino di prima vado e sfumo anche il cagial sempre verso l'esterno, verso l'alto Poi passo alla matita nera, rigorosamente matita nera all'interno della rima Perché usarne una viola potrebbe far sembrare gli occhi un pochino arrossati Quindi non mi piace mai usare matita viola all'interno dell'occhio E poi ho steso la matita nera anche sulla rima superiore, avete visto E poi passo al mascara, lo stendo sulle ciglia inferiori Non vado troppo abbondante, sempre per lo stesso motivo Perché con gli occhiali si potrebbe creare un'ombra un pochino troppo, insomma, pronunciata E poi, ah, sulle ciglia superiori non ho applicato il mascara perché ho l'extension Ormai mi sa che lo saprete tutte, ne parlo sempre E poi vado a riempire le sopracciglia con una matita del colore, appunto, delle mie sopracciglia Naturalmente vado a riempire tutti gli spazi vuoti Ed ora non mi resta che pettinarle Le pettino sempre verso l'alto e poi, così facendo, vado anche a sfumare la matita Così tutto sembra più naturale Poi blush, questo è un packaging bellissimo, tra l'altro blush vado ad applicarlo sulle guance Fino all'attaccatura dei capelli accanto all'orecchio Sfumo sempre verso il basso il mio blush, così è più naturale E poi passo al rossetto, questo è uno splendido rosa Molto naturale, non è né troppo chiaro né troppo scuro Quindi sta bene un po' con tutti i trucchi occhi Vado quindi ad applicarlo sulle labbra Et voilà, questo è il nostro risultato finale Il nostro trucco per occhiali Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto Mi raccomando, io vi mando un mega bacio Alla prossima! Alla prossima!